Avevano una barattina! Oh! Ma cos'è? Sì, io non ho detto mai! Sì! E non so che lo mette! E non so che lo mette! Non so che! Vabbè! E non ci fermo proprio gli appuntamenti! Allora, vi lo spiego un capo tra pochi minuti, poi Jackie Jay si spiega con Miss Linda Morris, e all'interno Paolo Cucci più sospette con... Cristina Maieri, la guest di questa sera, e poi si vada con il vicerittorio, con il vicerittorio Leonardo, e poi se ne andavamo tutti a casa alle tre di questi domani mattina! Grazie a tutti! Grazie a Morris! Grazie mille! Grazie Leo, grazie Vittorio, grazie a Vittorio No, non è già Dovretto! Che ti amo ? E com'è qua! Ciao! 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 Il nostro obiettivo è stato un po' di più di più di più di più di più di più di più. Sì, dove l'ama la tazza di un paletto. Prende un po' di altre cose, perché si fa fare un po' di altre cose, e poi si fa fare un po' di altre cose. No, ma bella, è il nostro piacere, è il nostro piacere, è il nostro piacere, è il nostro piacere, è il nostro piacere. E' un po' di cosa che vuole fare. Bene, sono due, sono due, sono due, sono due, sono due.